e allora tre insta da seguire diciamo ne tiriamo fuori tre divertenti perché perché di quelli fighi insomma ce ne sono quelli di design a seconda di quello che vi piace però ce ne sono tre estremamente divertenti che vi voglio consigliare il primo è cooking for by for by cooking for bay ecco cooking for bay che praticamente un instagram di un profilo di cucina di merda cioè piatti bruciati cose sbagliate è molto divertente perché il tipo prepara le cose per la sua fidanzata e le cose fanno cagare poi c'è un ce n'è uno improbabile che si chiama low cost cosplay che sono questi tipi asiatici che fanno delle delle maschere da cosplay dei costumi da cosplay con diciamo con quello che trovano insomma molto improbabili asciugamani caschi di banane c'è un super saiyan fatto casco di banane al posto dei cappelli insomma anche quello è molto divertente e poi ce n'è uno strepitoso che vi consiglio che si chiama poros walker che questo ha anche di ancora più geniale che è un profilo privato quindi bisogna seguirlo e aspettare di essere accettati e lui fa disegna delle vignette con dei cazzetti che sono divertentissime sono fantastiche poi vabbè ne consiglio altri due che sono quello dei sicchi sicchi official è il mio medesimo personale che è spedicati lui lui ricordati e spedicati lui 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 ciao ciao